buonasera e benvenuti in questa nuova puntata dedicata ai numerosi tagli siciliani effettuati negli ultimi anni partiamo subito dai dati sulla linea palermo catania sono due i treni eliminati nel 2016 il regionale veloce 38 00 delle 5 in partenza da palermo centrale per catania centrale e quello con numero 3813 delle ore 19 e 32 da catania centrale a palermo centrale è un dato allarmante perché evidenzia come si stia procedendo all'eliminazione dei collegamenti tra l'altro riguardanti la linea siciliana più importante e frequentata questi treni erano stati istituiti dopo il crollo del viadotto e avrebbero potuto continuare a creare mobilità eliminandoli si esclude questa possibilità del taglio di questi treni e altri due fortunatamente ripristinati si era occupato il comitato pendolari di palermo diretto da giosuè malaponti riportiamo le parole abbiamo fatto presente al dipartimento trasporti della regione ma nessuno sa nulla non è possibile imputare la responsabilità di queste scelte all'impresa ferroviaria trenitalia spa ma di certo alla scarsa attenzione di chi paga il contratto di servizio ponte per il trasporto ferroviario siciliano ribadiamo ancora una volta che è stato più naturale instaurare un rapporto di collaborazione con l'impresa ferroviaria trenitalia che con l'istituzione regionale che non ha voluto fare tesoro dell'esperienza dei comitati pendolari maturata in tutti questi anni in realtà che la regione non sapesse nulla ci appare piuttosto strano in quanto dovrebbe esserne la committente del servizio i treni erano stati istituiti probabilmente direttamente da trenitalia ma se la regione non prosegue nel finanziare il servizio una ricostituzione del trasporto pubblico non può nemmeno iniziare nulla di rassicurante giunge dalla linea modica caltanissetta su questa tratta le coppie di treni regionali veloci al giorno sono soltanto 3 e quanto mai necessario ripristinare i treni eliminati l'aggiunta di due coppie completerebbe un quadro orario in questo momento largamente insufficiente al riguardo il gruppo parlamentare del partito democratico dell'ars ha presentato all'assessore una proposta di modifica al contratto di servizio tra gli spostamenti d'orario di alcuni treni per favorire il flusso di viaggiatori spicca anche la proposta di ripristinare i treni appena riportati sulla linea gelamodica dal 2014 sono scomparsi il treno gelamodica in partenza alle 14 24 ed il regionale delle 19 e 27 in senso opposto la notizia è ancora più preoccupante visto che si procede ad eliminare i già pochi treni presenti su questa tratta infine sulla tratta gela siracusa è stata soppressa una corsa della fascia 20 22 urge ripristinare il collegamento sia per un servizio più completo sia per completare anche qui un'offerta molto scarsa una notizia positiva è invece il ripristino del servizio nei festivi sulla tratta siracusa calta nissetta un'ottima notizia per la val di noto che verrà dunque riservita da cinque coppie di treni in questo senso l'assessore ha fatto qualcosa di veramente notevole in controtendenza è quanto mai necessario però proseguire per recuperare tutto ciò che è stato smantellato non è impossibile le istituzioni devono crederci bisogna partire da qui grazie per averci seguito torniamo domani